Quai a uno... ... ma l'uomo non conosce più di uno... ... e crede che, in esatto, è di quai a uno... ... e è esposa, e ha di chiudere... ... e chiudere figlio è di quai a uno. Si dice e non è grande, non è grande, ma è grande, non è grande, non è grande... ... ma aити rispetto... ... però questi figli hanno in un sistema in corsa, quando si accorgevano... ... e non ci sono vie e non si hears o che gli uoi faranno in calcio... ... ma allora, gli uomini ammigliati... ecco se no io davanti qui scopo a detto e mi balla un quale amato nel senso che le buone che un galantone che questa parola in scossa come sarebbe la laurea i galantone le dico di quale un intendessimo e poi è che un quale un essere un galantone e poi è che sia buono ma poi è che un cattivo e i buoni e i cattivi anche di quale un po' di mega è un non quale un po' è visto bene purtroppo c'è le poi è sempre guarda io quello che ti dico e poi è sempre intelligente e chi stesse in poi a un che è un caso eccezionale ma succede e squire alla una roba e poi è stato un quale non è poi senti istruito può essere perfino laureato se che sale norentico in ignorante quella una sgrazia non sarà già una le come scorso e prepotente che uno ne ha capito quanta di che un paio ne poi è stato uno può rimanere disorientato in venda dei allora se uno è un coglione in cosa si distingue insomma che vuol dire su un quale un che c'è anche la cui un asno eh questa è una domanda alla fatica ma poi dei fan pensiero non è un paragone ecco i quali anni fa la roba e la verza e te hai vai che sbagliate al secco ma gli andrei fatti provi da te anche con le buone maniere ma l'ho niente e ti ritrovi da te nemmeno metti la buona strada l'ho di guarda su un'area adesso a vostra vis de casa e allora va finita che t'ha t'incaperno le dico vai a un traspoglio in piazza in piazza vienca quel che non c'è stato sintetico terra joni ecco vai a un però però è che s'ha spolfei è una marcia i mandalò